De Licarri, due settimane alla chiusura del mercato, c'è ancora parecchio da fare per il Pescara oppure no? No, parecchio no, siamo sui due o tre obiettivi che ci abbiamo in mente di fare, speriamo di raggiungerli quanto prima possibile, che è la cosa più importante, poi la squadra sarà finita. Cosa manca al Pescara, Daniele? 200 campissima punta, è ben finito. Ghion, trattativa in chiusura? Aperta, non in chiusura, ma dobbiamo ragionare in questa settimana. Per quanto riguarda l'attacco si parla di questo possibile ritorno di Dursi, insomma è possibile? Potrebbe essere un'eventualità anche il ritorno di Dursi, ma ci sono anche altri nomi. Ci sono anche altri nomi, invece Daniele per quanto riguarda eventuali cessioni, si è parlato nei giorni scorsi di Veroli, trattativa col Cagliari, potrebbe andare via il ragazzo? In questo momento è tutto in stand-by, quindi non ci pensiamo, perché Veroli è un giocatore nostro, un giocatore di grande prospettiva, quindi se dovesse arrivare l'offerta giusta è giusto anche che il giocatore venga accontentato. Soddisfatto di quello che fino ad oggi ha fatto la squadra, ha fatto vedere la squadra in queste gare amichevoli? Non sono mai soddisfatto in generale, voglio vedere sempre qualcosa di più, ma le amichevoli, do poco conto alle amichevoli, do molto conto al lavoro della settimana e sono soddisfatto sul lavoro della settimana. Ci potrebbe essere, Daniele, per chiudere qualche esubero nell'organico attuale del Pescara, mi riferisco per esempio a Rasi, per fare qualche nome. Sì, Rasi, in questo momento Rasi e D'Aloia sono i giocatori che fondamentalmente devono andare via, ma sono due giocatori che sicuramente a fine mercato troveranno squadra. Per chiudere, lasciando il mercato davvero l'ultima, insomma, questo ritardato inizio del campionato sta creando un po' qualche problema a tutte le squadre. Avete dovuto riprogrammare delle amichevoli? Avete allungato il precampionato? Più che altro quando uno comincia con un discorso di lavoro, il ritiro e fa dei cicli di lavoro, sicuramente qualcosa di tarda, ma poi non è un problema, non è un alibi, bisogna guardare avanti. Ora facciamo due amichevoli anche importanti con pari categoria e ci diranno il Pescara quando quale comincia a essere il vero Pescara.